Ciao amici di Teletop Games, oggi il filmato è in leggero ritardo, non per colpa nostra, ma perché i server di Konami hanno aperto con un'ora di ritardo. Però, però, siamo qui ed è puntuale l'appuntamento con il TG Tech. Oggi alle 16 si vince un altro gran premio, Sound Blaster X G6. Cos'è? È un amplificatore, una scheda audio esterna USB DAC per potenziare il sound del vostro PC e delle vostre console. Un premio da 150€, tutti i dettagli li trovate su videogiocaregratis.it oppure dalle 15, dalle 15 esatto, esatte, su Facebook alla pagina Creative Italia. Non perdete l'occasione, un gran premio. Voglio farlo vincere a uno di voi all'ascolto, quindi spero tanto che sia uno di voi a vincere. Allora, PES 2020, aggiornamento del giovedì. Intanto un'anticipazione su quello di lunedì prossimo, nel 30 settembre. Arriva il match day fra Inter e Juventus, in vista appunto della grande sfida che ci sarà la settimana prossima. Match day Juve-Inter e anche featured players, cioè agente speciale di Inter e Juve. Quindi una gran settimana ci aspetta a ottobre, tra la fine di settembre, lunedì 30 e inizio ottobre. Andiamo a vedere i giocatori in forma. Ronaldo, Messi, Neymar, Aguero, Kane, Lewandowski, De Bruyne, Sergio Ramos, Ederson, Neuer, David Silva e tanti altri. C'è Bonucci, Azpiliqueta che ho in squadra. Zoet, molto bene. Molti giocatori che ho in rosa. Scendono invece Suarez, Tiago Aspas, anche lui ho in rosa. Piqué, anche lui ho in rosa, l'ho preso da poco. Salah, Griezmann, Ter Stegen e poi si scende, si scende, si scende, si scende fino ai 75 tutti i giocatori in calo. Allora, prima di vedere i giocatori in evidenza, anzi no, li vediamo subito. Eccoli qui, De Bruyne, Neymar, Coutinho, Zoet, Robertson, Daniel Carvajal, Brozovic, Muriki, spero si legga così, Ninga, Berardi e Llorente. Non fatemi parlare di Napoli, per favore, se no mi sento male, oppure potrei essere denunciato e querelato. Quindi sulla partita di ieri, Napoli-Cayeri non mi esprimo che è meglio. Andiamo, dunque, a vedere i giocatori in evidenza e le loro caratteristiche. Che prima però vi mostro, vi mostro la mia squadra, me l'avete chiesto in tanti, come si è aggiornata rispetto alle prime settimane. Intanto mi prendo 10.000 GP per essere arrivato in posizione numero 8, con 17 punti. Questa settimana è andata molto meglio della scorsa, ho cambiato i filtri delle partite classificate, ho messo i giocatori con una distanza ravvicinata dal mio livello e le cose stanno andando molto meglio. Io lo consiglio anche voi, se non siete giocatori top, ovviamente, di Pessio, non sono giocatore top, tutt'altro. Però mi diverto tanto e sto ingranando, diciamo, in questa stagione, dopo un inizio difficile. Allora, ecco la mia squadra, ho Lukaku davanti, Park, Gisung sulla tre quarti, insieme a Bruno Fernandes, Candleva, Pogba, che mi fa impazzire, Fernandinho, Piquet, davvero ottimo, Scharra, Aspiliqueta, Munier e Anthony Lopez in porta. Però, praticamente, titolari li faccio ruotare a seconda della loro condizione, ho Zoet in porta, Romagnoli, Chiellini, che utilizza a volte come terzino sinistro, Verratti, ottimo anche lui, sì, è uno dei tre titolari, Bale, che non è affatto male, Cavani, con cui mi ci trovo bene, ma fino a un certo punto, così come con Lukaku, ancora la punta titolarissima la devo ancora trovare. E poi Bernardo Silva, anche lui, che gioca molto spesso, appunto, a posto di Bruno Fernandes o di Candleva, si alterna con gli altri. Quindi, sono discretamente soddisfatto. Devo trovare un terzino sinistro di ruolo e poi anche un portiere di livello, appunto, una punta, ce ne ho tantissime, ma quello proprio che mi dà quel quid in più, ancora no. Eccoli qui, allora, gli agenti. English League Stars, è quello come quello la settimana scorsa nel campionato italiano. Troviamo tanti giocatori del campionato d'inglese, ma non tutti. Dunque c'è Aguero, c'è De Gea, c'è Kane, c'è Wama Young, Pobba, Lacazette, Leno, David Luiz, Socrates, Ozil, Schmeichel, Matic e poi c'è Pepe. De Gea, Torreira, Maguire, Dembélé, Shaqiri, eccetera, eccetera. Io però, questo agente, sinceramente, con queste percentuali non le giro, anche perché vuole per forza le monete d'oro e non IGP. Andiamo invece a vedere i giocatori in evidenza. Tutte palle nere, già questo è interessante. C'è Neymar, 94, quanto mi piacerebbe Neymar, ce l'avevo l'anno scorso. De Bruyne, 94, quanto mi piacerebbe De Bruyne. Coutinho, 92, quanto mi piacerebbe Coutinho. Zoet in versione IF, 91, interessantissimo. Daniel Carval, 90, eppure lo preferirei a Mugnier. Robertson, Capperi, ce l'ho avuto in 18 e 19 pure, ottimo. Brozovic, 88, questo mi servirebbe meno Brozovic, onestamente, però niente male. Muriki non mi servirebbe a nulla, sicuramente posco Muriki, 3. E poi Llorente, per passione azzurra, mi piacerebbe molto, anche se come P85, diciamo, sarebbe uno con cui crossare a manetta e non fare altro. Allora, io un paio di giri. Ah, e poi c'è questo Ninga e Berardi, 85, sono molto meno interessanti. Le monete stanno iniziando già a scarseggiare, però almeno un giro lo faccio e vediamo chi mi capita. Ne faccio un paio e vediamo che succede. Dove andiamo? In Inghilterra. Magari De Bruyne? De Bruyne? Oh, De Bruyne! È lui, 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 è lui? Certo che lui! Uh, che bello De Bruyne! Bellissima pescata! Anche quasi meglio di Neymar! Clamoroso questo tre... Bellissima pescata, De Bruyne! Contento, contentissimo! E a questo punto me ne faccio un'altra, dai! Neymar, Neymar, Neymar... Che ne dite di Neymar? Neymar... Andiamo, dove andiamo? In Francia! Uh, in Francia andiamo, in Francia! È lui? No, non è lui, eh... Ho chiesto troppo... Neymar è uno degli 85, Ninga... Ninga, eh, spero che non sia una punta... No, è un ESA 85... Vedremo, vedremo, potrebbe essere anche interessante un'alternativa a Candreva, ad esempio... Bene, 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 bene... Allora... Le monete sono poche, io per il momento mi fermo qui, poi se ci sarà occasione vedremo di rigirare... Però, De Bruyne, guardate, lo voglio subito mettere in squadra, vediamo un po' come si comporta a livello di due... Vabbè, ho un allenamento tattico, lo faccio subito... Vediamo quanto mi aumenta... Ecco, vado subito a 98, quasi 99... Perfetto, ragazzi, 94... È pazzesco, è pazzesco questo giocatore... Menu giocatore, dettagli giocatore... Vediamolo... Eccolo... Ragazzi, passaggio alto, 97, 91, comportamento offensivo... Contentissimo, contentissimo... Va bene, benissimo... L'altro lo vedrò dopo... Vediamo le sfide di oggi, se c'è qualcosa di interessante... La Coppa, ti prego, Konami, cambia, non mi dire quella solita dei quattro punti... Dettagli e competizione... Sì, ragazzi, cambiatela, cambiatela... Vabbè, questa è quella di lunedì, scusatemi... Non è cambiata... È la stessa di lunedì... Pensavo che fosse modificata... Quindi, perdonatemi... Ho detto una cosa inesatta... Andiamo a vedere l'English League... Cheppure è cominciata... Niente, quindi sono le stesse di lunedì... Che non sono cambiate... La settimana scorsa mi sembra che il giovedì erano cambiate... Quindi l'unica cosa che è cambiata sono gli agenti... Che abbiamo visti... L'agente dell'English League... Che si può girare solo con monete... E i Player of the Week... Che invece sono davvero molto interessanti... Ho pescato Debrino... Quindi sono contentissimo... L'aggiornamento è da 6 e mezzo... Perché i giocatori speciali, per così dire, sono ottimi... Ma non c'è molto altro... Quindi 6, 6 e mezzo... Il mezzo è perché ho pescato Debrino... Lo ammetto... Vi ringrazio per l'attenzione... Ci vediamo oggi pomeriggio... Giovedì 26 settembre... Per farvi vincere Sunblaster XG6... Con il TG Tech di Simpli Radio... Ci vediamo lunedì con le novità di PES... Ma arriveranno anche altri filmati in fine settimana... Per altri giochi... E tante cose interessanti... Grazie per l'attenzione... Aspetto i vostri commenti... Aspetto anche le vostre opinioni sulla mia squadra... Ciao!